Ciao a tutti, buona vista, vossi ectorelli, io te la pegnavo al buono e il finto, osa di San Diego dei Compostele e Sbaglio... Eeeeeeeeh... Gheeeeh... Gheeeeh... Visi pallidi... Allegria... E benvenuti a un nuovissimo video Pronti, probabili, formazioni in tutte le partite Udinese e la Spezia Musso, Becao, De Maio, Samir, TeraVest Coulibaly, De Paul, Zegelar, Forestierio, Cagalasagna Atalanta, Sport... Lazio, Ostracoscia, Patrick, Acerbiratu quindi vi dico che secondo me vincerà la Lazio 1-0 questo è il mio pronostico però nel dubbio è una partita in cui il pareggio non ci può essere quindi giocatevi 1-2 proseguiamo e quindi qua vi dico due fisso over 1-1,5 ecco secondo me vince 3-0 l'Inter questa partita qui troppo facile per la squadra di Conte e questo è uno fisso secondo me vince 2-0 l'Udinese vabbè a presto dal vostro Hector Elio della Pegna Valbuena e Spindosa di Santiago de Compostela Espagnol Augavi si pallidi Allegri e buona la prima